I dipendenti comunali immunodepressi e con difficoltà a recarsi in ufficio potranno lavorare da casa. A Mesagne lo smart working, in italiano lavoro agile, è già realtà. Il sindaco Tony Materrelli, infatti, alla luce dell'emergenza coronavirus, ha approvato un regolamento per tutelare la salute dei dipendenti a rischio senza ralentare in nessun modo l'attività dell'amministrazione comunale. Alla luce dell'emergenza coronavirus abbiamo ritenuto di ricorrere a una legge di Stato approvata nel 2017, maggio 2017, per cui abbiamo ritenuto, attraverso un regolamento approvato in giunta la scorsa settimana, di istituire il cosiddetto smart working, ossia il lavoro agile. Cosa si intende con smart working? L'opportunità per alcuni dipendenti nostri, quindi dipendenti pubblici, di poter svolgere le proprie mansioni nella propria abitazione. Ad oggi sono tre i dipendenti su un totale di 146 ad aver aderito allo smart working e lo potranno fare senza vincoli di orario e a parità di trattamento rispetto ai colleghi che lavorano in ufficio. Chi lavorerà da casa dovrà timbrare virtualmente il cartellino attraverso uno strumento tecnologico e dovrà raggiungere anche degli obiettivi prefissati e concordati con l'amministrazione, ossia il dipendente farà nella propria abitazione esattamente quello che faceva presso il comune. Grazie.